Buongiorno a tutti. Allora lo stavate aspettando, lo stavate aspettando il video per il campionato italiano. Avete visto quello tedesco, quello spagnolo, quello francese, poi quello inglese e uno dice quello italiano. E quello italiano adesso arriva. Quindi si parte subito col botto signori perché la prima partita di sabato è subito un Lazio-Bologna con una Lazio senza. Ciruzzo mio! Mi stanno già prendendo per il culo perché ha fatto lo scambio immobile Vlaovic, giustamente immobile, con il Milan, il simpatico Calullo me l'ha rotto. Fortunatamente sta fuori giusto un paio di partite, salterà questa col Bologna e la partita di Coppa e poi però dovrebbe rientrare fortunatamente perché ieri mi prendeva in giro, eh tre mesi si è rotto il crociato, Abram è fuori invece Abram giocherà. Comunque si parte appunto sabato alle 15 con Lazio-Bologna. Allora ragazzi io mi arrischio l'uno però sarà dura, molto dura perché se c'era Ciro era un uno tranquillo, senza Ciro sono uccelli per diabetici. Però magari il sostituto farà il buon Pedro, 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 Pedro e poi magari mi segna Filippo e Anderson che sarebbe anche ora. Proseguiamo col partitone. Napoli-Inter mi metto un bel X fisso, voglio fare il Ponzio-Pilato e mettere l'X. Non metto né uno né due. Scusate un attimo prima che mi si blocchi come al solito che ha carico. Dicevo non metto né uno né due, metto l'X fisso, poi vediamo cosa succede. Non uscirà di sicuro, vince l'Inter, vince il Napoli, è matematico, però voglio rischiare questo X fisso giocato così. Voi non mi seguite perché è difficilissimo perché questa è una partita veramente da aiuto aiuto arriva il lupo. Poi sabato alle 20.45 poi c'è un interessante Torino-Venezia che anche qui metto l'uno perché sinceramente non puoi mettere l'uno in su questa partita. O rischi e fai, ti giochi l'X2 o giochi l'1? Mettere uno isporti a casa a 1,15, 1,12, non la giochi neanche, cioè che te lo fa fare. Quindi rischio l'1 e vediamo come va perché credo comunque che il Venezia venderà molto cara la pelle a Torino, col Torino, poi magari perderà lo stesso 3 a 2, 3 a 1 eccetera eccetera, però credo che venderà molto a caro prezzo la pellaccia come si suol dire. Proseguiamo con le partite di domenica iniziando da Empoli-Cagliari 1x. Proseguiamo sempre domenica alle 15 abbiamo Genoa-Salernitana. Allora Genoa-Salernitana, sulla carta il Genoa è strafavorito eccetera eccetera, ma siccome è una partita in cui il pareggio non serve a una beata Giovanna né a una né all'altra, perché sono nei bassi fondi, sono indietro anche di parecchi punti sulle altre, perché almeno il Venezia a 18, al Cagliari a 20, sono due punti, c'è una partita in meno può farcela. Genoa-Salernitana sono a 14, 10 punti quello che è, capite che sono a 6 punti e 10 punti dalla quarta ultima, pareggiare non gli serve a niente, quindi ho messo 1-2. Verona Udinese 1x, ero tentato a mettere l'1 fisso ma ho detto no perché l'Udinese in difesa se la cava mica da ridere, poi bisognerà vedere il mio Simeone, rientrando dalla squalifica è bello carico, bello sveglio, mi fa una partita come due settimane fa che si è mangiato anche sua mamma e quindi boh, staremo a vedere. Poi mi ero dimenticato la partita delle 12.30, Milan-Sandoria signori, Milan-Sandoria, partita delle 12.30, ho messo l'1 perché vale lo stesso discorso che facevo per la finita, Torino-Venezia, perché mettere l'1x veramente te la paga 1,12. Quindi Milan-Sandoria metto l'1 ma attenzione alla sorpresa perché io questo Milan sinceramente è vero, vinto 4 a 0, vinto il derby, tutto quello che volete, però lo vedo sempre lì che sfrutta tra virgolette gli errori altrui ma non è che lo vedi che prende in campo, prende in mano la partita, ti mette lì all'angolo e finché non va 3 a 0 non ti molla, no lui sta lì tranquillo, veleggia e poi in base a come va la partita vince così che non sa neanche lui come fa. Siccome la Sandoria si è rinforzata abbastanza, c'è anche un giovinco bello carico eccetera, ha perso Gabbiadini però c'è tanta roba, non lo so, poi magari vincerà lo stesso alla grande, tutto quello che volete. Io metto l'1 perché non si può prescindere però attenzione. Poi domenica alle 18 abbiamo un bel sassuolo Roma con un sassuolo senza attacco, senza raspadori, senza scamacca, dovrà pensarci la Riberardi and company e quindi metto un bel x2 anche perché la Roma vorrà rifarsi dalla sconfitta contro l'Inter, i giocatori dopo le parole di Mourinho che gli ha dato delle pippe a tutti vorranno dimostrare che loro ci sono, quindi proviamo l'X2. E infine, anzi non infine perché c'è anche la partita di lunedì, però domenica alle 20.45 abbiamo l'altra partita libidine perché se c'è lo scontro tra la seconda e la prima, la seconda contro la prima, abbiamo lo scontro anche tra la quinta contro la quarta, Atalanta e Juventus. Atalanta e Juventus metto x2 perché, ripeto, questa Juventus secondo me ha più probabilità la Juve di arrivare seconda che non di Milan di vincerlo Scudetto, poi i milanisti avranno sicuramente da ridire, però attenzione a questa Juve perché è vero che Giù continuano a dire che gioca male, è vero qui, è vero su, è vero giù eccetera eccetera eccetera, però al secondo tempo con il Sassuolo bisogna dirlo che le occasioni sono fioccate e c'è stato un simpatico pigolo che a 40 anni ha dimostrato di essere ancora un valido portiere parando di tutto e di più. Infine si conclude la Barabacici-Cicocò con la partita del lunedì Spezia-Fiorentina x2 perché lo Spezia è in casa, vende sempre molto cara la pelle, poi ho visto che l'ultima volta è finita 2 a 2 Spezia-Fiorentina, attenzione che potrebbe ricapitare di nuovo. Detto questo ragazzoli, adesso vado in ordine alfabetico, non sto con gli orari e tutto quanto e vi faccio la schedina alternativa. Atalanta-Juventus gol, Empoli-Cagliari gol, Genoa-Salernitana over 1,5, poi mi è messo Verona-Udinese over 1,5, Lazio-Bologna over 1,5, Milan-Sandoria over 2,5, Napoli-Inter over 1,5, Sassuolo-Roma over 1,5, Spezia-Fiorentina gol e Torino-Venezia gol perché il resto dell'idea che il Venezia un gollettino al stadio di Torino o Torino lo riuscirà a fare. Non so se è il Filadelfia o quello che è, perché loro a Torino hanno 3-4 stadi, noi facciamo fatica a farne due, a Torino hanno gli stadi di scorta. Va bene, c'era il delle Alpi che non c'è più, c'è l'Allianz Arena, poi c'era il Filadelfia, ce ne sono. Va bene, lasciamo perdere. Andiamo a vedere le bollette del Gigione e che partite ha scelto, perché mi sono dilungato un po' troppo. Adesso andrò via veloce, veloce, veloce da leccarsi le orecchie. Allora, le partite scelte sono Milan-Sandoria, Verona-Udinese, Genoa-Salernitana ed Empoli-Cagliari. Vediamo come andrà partendo da Milan-Sandoria 1, Verona-Udinese 1, Genoa-Salernitana 1 ed Empoli-Cagliari 1. Con 5 euro se ne vinco un 49,90. Consiglio qualche doppia, io non posso perché è la bolletta delle fisse, quindi devo farla così. Bollettina numero 2, Milan-Sandoria multigol casa 2-4, Verona-Udinese multigol casa 1-3, Genoa-Salernitana multigol casa 1-3, Empoli-Cagliari multigol casa 1-3. Con 5 euro se ne vinco un 16,25. Ero tentato a mettere il multigol casa 2-4 in Empoli-Cagliari, però questo Cagliari che mi va a vincere a Firenze eccetera eccetera, attenzione, attenzione al battaglione. Bollettina numero 3. Cos'ho detto? Ho vinto a, non a Firenze scusate, ho vinto a Bergamo 2-1, ho andato a vincere a Bergamo 2-1. Lapsus, chiedovenia. E l'Atalanta che ha vinto 3-2 in casa della, cioè la Fiorentina anche lei che ha vinto 3-2 in casa dell'Atalanta in Coppa Italia. Bollettina numero 3. Milan-Sandoria 1-1. Verona-Udinese 1-1. Genoa-Salernitana 1-1. E Empoli-Cagliari 1-1. Con 5 euro se ne vinco un 21,79. Ho fatto un'opzione sola perché sono partite che paiono scontate ma non le darei così per scontate. Quindi Milan-Sandoria 1-1. Verona-Udinese 1-1. Genoa-Salernitana 1-1. Genoa-Salernitana 1-1. Ed Empoli-Cagliari 1-1. Con 5 euro se ne vinco un 27,02. Naturalmente a vostra discrezione poter scegliere anche qualche altra partita. Io mi sono arrischiato solo Milan-Sandoria sulla carta giusto per cercare di alzare però io avrei lasciato tutte doppie proprio perché non è che sono così convinto che. Andiamo alla bollettina numero 4 che mi fa libidine. Milan-Sandoria gol ospite. Verona-Udinese gol ospite. Genoa-Salernitana gol ospite. Empoli-Cagliari gol ospite. Con 5 euro se ne vincono 20,30. Che non sono malaccio. Bollettina numero 5. Purtroppo per una partita e per un'anticchia non vi posso fare le indicazioni. Comunque Milan-Sandoria gol piover. Verona-Udinese gol piover. Genoa-Salernitana gol piover. Empoli-Cagliari gol piover. Con 5 euro se ne vincono 96,82. Tutti i gol piover sono favoriti ad eccezione di Genoa-Salernitana. perché è favorito al no gol più under ma c'è una differenza di 0,10. Quindi attenzione potrebbe essere un'idea, una giocatina. Due orini. Due orini alla fine della fiera ne portereste a casa 38. Non fanno schifo. Con 2 euro 38 euro. Libidile. Veniamo alla bollettina numero 6. Milan-Sandoria uno più gol. Verona-Udinese uno più gol. Genoa-Salernitana uno più gol. Empoli-Cagliari uno più gol. Con 2 euro se ne vincono 300,35. Con 5 euro 750,87. Però l'unica partita in cui l'uno più gol è favorito è Empoli-Cagliari. Le altre tre partite è favorito al no gol. Quindi anche in questo caso vi faccio la bolletta alternativa col no gol. Milan-Sandoria uno più no gol. Verona-Udinese uno più no gol. Genoa-Salernitana uno più no gol. Empoli-Cagliari uno più no gol. Cos'ho detto? No, Empoli-Cagliari uno più gol. Replay. Mippa per me. Milan-Sandoria uno più no gol. Verona-Udinese uno più no gol. Genoa-Salernitana uno più no gol. Ed Empoli-Cagliari uno più gol. Perché in questo caso il gol è favorito. Non moltissimo, però è favorito. In questo caso con 2 euro se ne vincono 140,38. Con 5 euro 350,92. Chiedo Venia che mi sono dilungato troppo, ma è il campionato di Serie A. È giusto anche sprecare qualche parolina di troppo. Noi ci vediamo alla prossima. Vedremo come andrà. Io prevedo tante tante sorprese. Però, ripeto, o hai il coraggio di dire metto l'Is 2 anziché l'1 o se no dai per scontato l'1. Perché poi magari sono tutte scontate. Magari Milan-Sandoria finisce 3 a 1. Verona-Udinese finisce 2 a 1. Genoa-Salernitana finisce 3 a 1. Empoli-Cagliari 4 a 2. Facciamo 4 a 3. Libidine si fa l'incassone, il Gigione fa l'incassone, le azzecca tutte e si gode. Detto questo ci vediamo alla prossima. Ciao.